Aie aie o! 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 Chiude al sest'ultimo posto ma i nove punti di vantaggio sulla Re Canatese e terz'ultima permettono all'Isernia di raggiungere la salvezza senza passare per i play-out. All'Ancelotta i Pentri si sbarazzano senza troppe difficoltà del Fidene già salvo. Non c'è Lunardo squalificato al suo posto Nicolai in attacco spazio a Maiorano in coppia con Guglielmi. In mezzo al campo c'è Fazio subito protagonista con questa conclusione dalla lunga distanza. Dicevamo in attacco c'è Guglielmi qui pericoloso da posizione impossibile. Al minuto 20 l'Isernia spinge ma le conclusioni di Fucci e Guglielmi trovano l'opposizione della retroguardia laziale. Fidene che prova ad approfittare di una distrazione di calabrese Sorrentino Cincischia poi scarica su Dominici che calcia col piede debole. L'Isernia risponde trovando il vantaggio grazie a Guglielmi. Prestazione come al solito sontuosa, la sua tocco sotto misura e palla in fondo al sacco. I bianco celesti nell'occasione in maglia rossa vogliono ipotecare i tre punti. La punizione di Iaboni dà solo l'illusione del gol mentre minuto 43 Maiorano dopo una super parata di Mangierini su Fazio dimostra di avere sangue freddo in zona gol. Squadre negli spogliatoi sul doppio vantaggio in favore dei padroni di casa. Pantano sprona ai suoi che al quarto d'ora sfiorano il gol con De Marco fermato dalla traversa poi Iaboni salva su Sanzotto. La gara è caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte. Nell'altra metà campo Maiorano apparecchia per Fucci che non vede la porta. Il Fidene non ci sta e accorcia le distanze con questo pezzo di bravura di De Marco. Possibilità di raggiungere il pareggio che dura 10 minuti. Lisernia si riorganizza e trova la terza rete con Fucci che di ginocchio spedisce alle spalle di Mangierini. Selva fa il fenomeno ma trova sulla sua strada un super d'Arienzo che nulla può invece su questa ravvicinata conclusione di Macellari. E' il gol del 3 a 2. Poi la lunga attesa nei pressi della panchina. Il gol della Samb che stende la Recanatese dai là alla festa che inizia sul rettangolo verde e prosegue nello spogliatoio.